Marco Cavallo è una macchina teatrale, una scultura simbolo al tempo stesso del dolore di chi vive la malattia mentale e del desiderio di liberazione. Dal 1973 l'imponente statua color turchese viaggia per il mondo a testimoniare i diritti di chi vive la sofferenza psichica e di tutte le persone in condizioni di disagio. Fu costruito dai pazienti del manicomio di Trieste sotto la guida di Franco Basaglia, lo psichiatra ispiratore della legge 180 che impose la chiusura dei manicomi e istituì i centri di salute mentale. Il cavallo simbolo dell'umanità più debole è partito dalla galleria Umberto I guidato dall'operatore Roberto Rosca alla presenza del sindaco De Magistris. Marco Cavallo essendo un guerriero, un lottatore, un portatore di pensiero, un portatore di desideri realizzati e tutte queste cose è venuto a Napoli per cercare di aiutare, portare fortuna, di essere presente. Marco Cavallo ha quindi imboccato via Toledo e ha poi proseguito fino all'istituto per ciechi Paolo Colossimo.